Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Angelo Giudici, l'organizzatore della Fiera del Libro di Triora. Cosa si aspetta da questa giornata? Mi aspetto che finisca bene, sicuramente è una risposta ovvia e magari un bel anno, ma dopo aver lavorato otto mesi deve necessariamente concludersi con un piccolo successo, con la speranza che ci possa poi essere una terza e dosi. Sono contento di aver imparato gli scrittori, gli espositori, gli sponsor della cultura e sono contento di come stanno andando avanti le cose, quindi direi che al momento la giornata si apre bene, si apre più che bene. Vediamo nel pomeriggio cosa succede. E in confronto all'anno scorso sta andando meglio? Sicuramente meglio, perché l'anno scorso l'ho organizzato in due mesi all'altro, tempi di dare in mano, quest'anno mi sono preso appunto, l'attimo fa ho otto mesi di tempo per andare a fare. Quindi è dieci volte più grande e ovviamente ci sono anche di più che in particolare meglio, però le prospettive future possono essere più che bene. Grazie comunque ai partecipanti, senza gli scrittori, senza i direttori, senza lo staff preparato per raccogliere anche i centristi. Non si può tempo. Devo dire grazie a tutti per essere arrivati a questo punto. Grazie Emilia, ringraziamo Angelo Giurici e auguro una buona giornata. Grazie a tutti.